In questo tutorial scaricheremo Saffeio, creeremo un portafoglio, ripristineremo un altro e utilizzeremo entrambi i portafogli. La prima cosa che faremo è entrare in GitHub di Saffeio. Andiamo alle uscite per scaricare l'ultima versione. Scompattiamo. Andiamo a gestire le estensioni e in modalità sviluppatore andiamo all'opzione di Upload non Zip. Scegliamo la cartella che abbiamo appena scaricato. L'estensione apparirà immediatamente. Fissiamo l'estensione per averla sempre a portata di mano. Apriamo l'estensione. Immediatamente appare la dichiarazione di non responsabilità. Se siamo d'accordo, facciamo clic su Saffeio. Qui saremo in grado di creare un nuovo portafoglio, ripristinarne uno esistente e saremo anche in grado di ripristinarne uno per firmare la transazione con il portafoglio per iOS o Android. Creeremo un nuovo portafoglio. Scegliamo un nome, un colore di sfondo e il numero di parole di semi che vogliamo per il nostro portafoglio. Dobbiamo scriverlo e tenerlo in un posto sicuro. Immettere una password e fare clic su Aggiungi portafoglio. Ora l'abbiamo creata correttamente. Qui possiamo vedere l'indirizzo del nostro portafoglio. Per effettuare una transazione da questo portafoglio, invieremo 0,2 ERG da un altro portafoglio. Una volta che avremo l'ERG effettueremo una transazione per testare il portafoglio. Indichiamo l'indirizzo del destinatario. Possiamo scrivere l'ERG che vogliamo inviare o direttamente, come nel nostro caso, controllare la casella per inviare tutto e fare clic su Invia. Qui possiamo vedere il riepilogo della transazione e se siamo d'accordo, firmiamo con la nostra password. Qui ci viene mostrato l'elenco delle transazioni. Ciò corrisponde alla prima transazione in cui riceviamo lo 0,2 ERG iniziale. Torniamo a SAFEIU e possiamo vedere che appare la seconda transazione, dove questa volta inviamo 0,2 ERG. La transazione non è ancora confermata e pochi minuti dopo è confermata. Possiamo vedere che il nostro portafoglio è stato lasciato con il saldo a 0 ERG. Ora quello che faremo è ripristinare un portafoglio per firmare transazioni con il portafoglio per iOS o Android. Scegliamo il nome, un colore di sfondo e digitiamo l'indirizzo del portafoglio che vogliamo ripristinare e fare clic su Aggiungi portafoglio. Qui possiamo vedere i due portafogli. Faremo una transazione dal portafoglio restaurato. Immettere l'indirizzo del destinatario, che nel nostro caso sarà il portafoglio che abbiamo creato in precedenza. Scriviamo il totale che vogliamo inviare, nel nostro caso 0,1 ERG. Fare clic su Ergopay e il codice QR apparirà per la scansione dalla nostra applicazione mobile su iOS o Android. Una volta che il pagamento è stato effettuato dal cellulare, torniamo alla home page e possiamo vedere come appare la transazione in sospeso in entrambi i portafogli, poiché uno è quello che invia e l'altro è l'uno che sta per ricevere il spedizione. Dopo pochi minuti possiamo vedere che la transazione è stata completata con successo.